cari amici di smart video photography benvenuti in questo nuovo video dedicato all'applicazione luma fusion oggi andremo a vedere il secondo focus centrato su come inserire modificare eliminare eccetera eccetera le clip dalla timeline ovviamente andremo a vedere anche funzioni un pochino più complesse come i livelli diciamo di delle clip all'interno della timeline vi auguro una buona visione ti ricordo di iscriverti al canale e di azionare la campanella per ricevere le notifiche se ti è piaciuto questo video lascia un bel pollicione grazie benissimo benvenuti in questo secondo focus andremo a vedere un po di funzioni legati alla timeline e alle clip iniziamo subito senza perderci in troppe chiacchiere vedendo come possiamo inserire una clip all'interno della nostra timeline andiamo nella nostra applicazione luma fusion creiamo un nuovo progetto accediamo alla nostra libreria carichiamo un video e possiamo trascinarlo prendendolo dalla libreria direttamente nella timeline oppure possiamo prendere visione sul preview fare un primo taglio se vogliamo e cliccare sulla freccetta che c'è sulla sinistra a fianco i marker e la nostra clip verrà importata possiamo importarne un'altra in coda possiamo importarne un'altra in testa allora adesso andiamo a vedere un altro tipo di importazione andiamo a vedere come importare la clip tra una clip e un'altra prendo una clip nuova la vado a posizionare tra una clip e l'altra vedete che mi viene importata correttamente mantenendo la timeline correttamente senza praticamente distruggerla se io voglio importare una clip e non mantenere quello che c'è sulla mia destra devo agire sull'iconetta che c'è sulla mia sinistra sotto tv meter vedete selezionarla vado a prendere una clip che è più grande di quella che c'è ora sulla timeline vado a posizionare la mia clip sulla timeline e quella che c'è sulla destra praticamente è bella che è sparita quindi fate attenzione se volete mantenere intatta la vostra timeline con le clip dovete non selezionare quest'icona ma se la vostra intenzione è non mantenere la timeline intatta adesso vi faccio vedere perché e fare delle modifiche in questo senso se io seleziono l'icona vado a prendere una clip la piazzo in mezzo a una clip già esistente lui mi taglia automaticamente la clip esistente inserendo la nuova clip quindi questo è un modo molto semplice se avete ovviamente l'idea chiare di tagliare la clip esistente inserendo un'altra clip mentre se voglio mantenere la mia timeline intatta devo deselezionare l'iconetta come faccio a spostare una clip posso spostare una clip semplicemente trascinandola dove voglio metterla sia in testa che in coda o ovviamente posso spostarla anche tra due clip tenendo presente sempre che se io seleziono l'iconetta questa sempre sulla mia sinistra le clip verranno spostate se non la se la seleziono le clip verranno modificate ok come faccio a ridimensionare una clip molto semplicemente prendendola dalle maniglie che ci sono sia in coda che in testa per eliminare una clip non faccio altro che selezionarla sulla mia sinistra cestino e la mia clip è bella che andata allora ora andiamo a vedere come posso inserire una clip vuota adesso vi faccio vedere a cosa servono le clip vuote tasto più sulla mia destra voce clip vuota e lui inserisce una clip vuota precisamente nella posizione dove io ho lasciato il mio marker cosa serve la clip vuota serve praticamente a lasciare uno spazio perché io possa ritornare sul mio progetto inserire magari una ripresa che ho fatto successivamente ho la clip vuota si comporta come una clip normale posso spostarla posso ovviamente ridimensionarla e posso cambiare il contenuto posso tagliarla e tutto il resto è proprio di questo che andiamo a parlare adesso come sostituire una clip esistente con una clip nuova se io voglio adesso mettere al posto di questa clip una clip vera diciamo con un contenuto non faccio altro che prendere una clip con un contenuto posso posizionarla sulla clip vuota vedete che mi viene mostrato proprio il simbolo che voglio inserirla e mi vengono mostrate queste tre voci posso mantenere la durata della clip vuota esistente mantenere la clip la durata della clip ovviamente nuova o annullare se io voglio mantenere la clip come è adesso la durata clicco sulla prima voce e non mi viene praticamente modificata la durata della clip esistente ma se io prendo una clip più lunga la riposiziono e dico sì la seconda voce mi viene modificata anche la durata questo vale anche per le clip esistenti ovviamente con dei contenuti se io prendo una clip la posiziono su un'altra clip mi viene fatta la stessa domanda posso sostituire ovviamente la clip con la durata della clip esistente oppure la clip con la durata della clip che vado a mettere o annullare tenete presente che se mettete una clip su una clip esistente più lunga ovviamente la l'opzione della durata non mi viene menzionata ovviamente posso solo sostituire la clip con la durata della clip che ho adesso sostituito spero sia chiaro andiamo a vedere ora come effettuare i tagli sulle clip è molto semplice non faccio altro che andare sulla posizione che voglio tagliare la frobicina sulla mia destra mi posiziono alla fine del mio taglio praticamente prendo la mia clip e la posso eliminare se invece torno indietro e seleziono l'iconetta magica e cancello la clip mi viene creato uno spazio vuoto come faccio a saperlo? riseleziono l'icona e mi viene mostrata praticamente la mia clip vuota ok? quindi per creare uno spazio vuoto devo tenere selezionata questa iconetta qua per invece come succede per lo spostamento o per l'inserimento spostare tutto sulla mia destra dalla mia destra verso la mia sinistra non faccio altro che lasciare diselezionata la mia icona sulla sinistra taglio la mia clip e tutto quello che c'è sulla destra viene spostato sulla mia sinistra ora andiamo a vedere i livelli delle clip quanti livelli posso mettere sia video che audio ben tre livelli cosa vuol dire? che se io prendo una clip e la metto sopra aspettiamo perché se no non riusciamo a vedere se io metto una clip al di sopra diciamo quella che c'era il secondo livello sarà il principale se io metto un'altra clip al di sopra il primo livello sarà il principale quindi verrà mostrato prima il secondo il primo e poi il terzo vi faccio vedere un pochino più dettagliatamente se io questa adesso l'accorcio viene mostrato il primo il secondo e il terzo la stessa cosa vale per i livelli audio solamente che i livelli audio sono tutti e tre eseguiti contemporaneamente perché potete mettere una musica un commento e un effetto la cosa bella è che se io voglio importare un audio da un filmato basta che prendo il mio filmato lo metto nella timeline al posto dell'audio e viene importato praticamente solo l'audio così anche per gli altri vedete che anche qui che abbiamo tre livelli audio ok? quindi molto molto completo questo programma è molto molto bello abbiamo l'ultima cosa abbiamo l'ultima cosa la navigazione attraverso le clip praticamente una sorta di marker ma non sono marker togliamo tutto quello che abbiamo messo allora torniamo indietro ok quindi se io vado vicino alla freccetta del player sulla mia freccetta sulla destra mi verrà spostato tutto il mio il cursore sulla destra se io torno indietro mi verrà spostato il cursore sulla sinistra non vi ho detto una cosa potete tagliare due clip contemporaneamente se io adesso vado a mettere una clip una sopra l'altra non devo selezionare nessuna clip per avere il taglio multiplo taglio vedete che vengono tagliate le due clip ovviamente anche qui se io cancello la clip sottostante verrà spostato tutto ma se io disseleziono la mia icona e cancello quella sottostante mi verrà creato uno spazio vuoto e così vale anche per quello sopra ok non verrà spostato nulla bene spero che vi sia piaciuto questo video vi auguro di mettere in pratica quello che vi ho spiegato sperando di essere stato chiaro alla prossima che vi ho spiegato di